Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, buon mercoledì. Oggi è un mercoledì abbastanza particolare in realtà perché viene dopo un giorno di festa e quindi non sembra proprio un mercoledì, sembra un inizio di una nuova settimana. Però è un mercoledì e oggi capisco quello che intendeva ieri Allegri con è una conferenza stampa strana perché dopo tanti anni mi ritrovo a fare una conferenza stampa in cui il turno non lo possiamo passare. Oggi lo comprendo veramente bene perché mi sono svegliato pensando che ormai il nostro destino in Champions League è stato già scritto, abbiamo deciso quest'anno di fare un favore a PSG e Benfica e forse anche a Maccabi Haifa e vorrei cercare di non completare il favore definitivamente perché almeno in Europa League mi piacerebbe andare a giocare. Ieri quello come diceva, ma perché? Andare a giocare in Europa League per continuare a fare figuracce? Io sono sempre ottimista per natura e quindi spero che le cose possano migliorare e ribadisco, io non sono così convinto che Allegri rimarrà l'allenatore della Juventus da qui ai prossimi 11 giorni, dato che poi tra 11 giorni ci sarà Juventus-Lazio e dopo quello che potrà accadere durante il Mondiale. Beh, Dio solo lo sa e internamente ai muri della Continassa soltanto li sanno che quella sarà la volontà. se si concluderà davvero la stagione con Allegri oppure no. Bene o male immagino che Allegri rimarrà l'allenatore della Juventus fino a fine stagione se non si opterà per un cambio a Mondiale in corso, però vediamo un attimo come va. Perché secondo me queste ultime quattro partite possono eventualmente dare quella spintarella in più di convinzione, in caso positivo o negativo. so che non è un bel ragionamento perché la Juventus dovrebbe aver già deciso, per quanto mi riguarda, se continuare con questa guida tecnica o se cambiare, anche perché i risultati, per dire l'unico obiettivo è fallito fino ad adesso la Champions League, gli altri sono ancora in bilico, però bisognerebbe avere un attimo di presa di coscienza, di posizione, di vedere quello che sta accadendo la Juventus e non è qualcosa di positivo. Oggi cercheremo di andare anche un po' più nel dettaglio grazie a qualche dato per capire anche il PSG che tipo di squadra è in confronto a noi, ribadisco. Secondo me la Juventus dovrebbe aver già deciso, però non mi stupirebbe una Juventus che prenda una decisione di pancia, magari dopo qualche sconfitta, magari pesante, in queste quattro partite di cui tre, secondo me, con un grado di difficoltà veramente elevato per questa Juventus. Perché tutte le partite sono da tripla, ma Inter, Lazio e PSG in questo momento sono particolarmente complicate per la Juventus. Però cerchiamo un attimino di andare a fare il punto della situazione e lo facciamo grazie a Soccerment, Soccerment che è la piattaforma che utilizzo sempre per il match report, per analizzare le partite. Vi lascio il link qui sotto in descrizione per accedere a questa piattaforma che è completamente gratuita, completamente gratuita per determinati campionati e diventa pagamento per altri campionati. Quindi se siete interessati ad avere il pacchetto completo potete sempre sottoscrivere l'abbonamento, in caso contrario potrete confrontare i dati in maniera veramente gratuita. Vi lascio il link in descrizione. Allora, questo è il PSG. PSG che è primo in Ligan, questi dati fanno riferimento soltanto alla Ligan, in generale però, comprendendo anche Champions e altre coppe varie, è ancora imbattuto in stagione. Non ha mai perso una partita. Quindi stasera per noi è tra virgolette inutile perché è utile per l'Europa League, per la Champions è inutile. Mi piacerebbe avere almeno una piccola ed inutilissima soddisfazione, cioè riuscire a sporcare noi per la prima volta il rullino di marzo del PSG, dato che le tre squadre, tre delle squadre imbattute in Europa erano PSG, Benfica e Napoli. Benfica è imbattuto, a meno che il Maccabi stasera non decida di batterlo, ora lì diventa un problema anche per noi. Il Napoli ieri sera ha perso 2-0 ad Anfield e noi abbiamo la possibilità di rendere il Benfica l'unica squadra ancora imbattuta in stagione. Vediamo se saremo in grado, in caso contrario il PSG e Benfica sono le uniche due squadre che non avranno mai perso, sono quelle che abbiamo beccato noi nel girone. Yes, vai così. Ad ogni modo, questi sono i dati, ok, questo grafico, i dati incrociati di PSG in azzurrino e di Ligan in grigio. Che cosa significa? Che in Ligan solitamente si fanno 1.63 gol a partita, il PSG invece fa 2.77, quindi capite che è sopra la media. In Ligan solitamente si fanno 0.26 clean sheet a partita, il PSG ne fa 0.62. I passaggi nella metà campo avversaria, solitamente in Ligan si fanno 184 passaggi, il PSG ne fa 305. Tiri in porta, solitamente ogni partita in Ligan si tira in porta 4.82 volte, il PSG tira in porta ogni partita una media di quasi 8 volte. Clamoroso, veramente clamoroso. I dribbling, solitamente si dribbla 8.7 in Ligan, il PSG dribbla 12 volte a partita, quindi veramente. Tranne sui recuperi dove sono molto molto vicini, anzi addirittura il PSG è leggermente sotto la media dei recuperi per quanto riguarda il campionato francese. Invece per tutto il resto il PSG sta overperformando rispetto al campionato appunto. E qua ci sono altri dati come la percentuale, la precisione nei tiri, il PSG ha una precisione dei tiri del 46%, abbiamo i goal appunto, il PSG 2.8, insomma ci sono tantissime statistiche che potete andare a vedere. Ci sono anche una cosa molto interessante, secondo me importante, sono i passaggi nella propria metacampo e i passaggi nella metacampo avversaria, perché sono due statistiche diverse ovviamente. E vediamo che il PSG costruisce quasi uguale nella propria metacampo in quella avversaria, leggermente più in quella avversaria, il che è più difficile, perché ovviamente c'è anche il contrasto degli avversari che devono cercare di non prendere gol. E poi ci sono le statistiche di tutti i calciatori, allora queste fanno abbastanza paura perché poi andremo a confrontarle con quelle della Juve. Le occasioni create, Neymar è il giocatore più pericoloso per occasioni create, è anche il giocatore secondo nella classifica marcatori e primo nella classifica assist per il PSG, quindi giocatore veramente pericoloso, in grado di creare un pericolo con golo assist, per fortuna non c'è Neymar stasera, quindi tutto a posto, meglio così. Invece nei tiri, Bappé è quello che tira più spesso in porta, seguito da Lionel Messi, insomma diciamo che spaventano soprattutto perché sono statistiche molto molto alte, nella quale noi andiamo vicini abbastanza soltanto nella percentuale dei passaggi. Invece nei passaggi in generale spaventa Verratti che ha questa media di 104 passaggi che è veramente altissima e Messi che nei dribbling rimane sempre il re incontrastato. Quindi ricordatevi magari queste statistiche perché adesso passiamo invece a quelle della Juventus. La Juventus con il settimo posto in Serie A, in battuta no, neanche per sbaglio. Possiamo vedere che in realtà la Juve è molto vicina alle statistiche medie della Serie A, quindi il PSG è una squadra sopra la media nel campionato francese. La Juventus è una squadra terribilmente in media per quello che è il campionato italiano e già questa è una brutta sconfitta secondo me per la Juventus perché è vero che il campionato francese non è niente di che, ma quello italiano non è sicuramente quello di riferimento. Siamo più bravi nei clean sheet, abbastanza più bravi nei clean sheet, siamo leggermente più bravi nei passaggi, leggermente, leggermente più bravi nei tiri in porta ma proprio leggermente, leggermente più bravi nella media gol segnati ma proprio leggermente e invece siamo sotto nei recuperi e siamo sotto nei dribbling, terribilmente sotto nei dribbling. Quindi siamo una squadra media, la squadra media della Serie A, proprio decisamente la squadra media della Serie A. Poi ci sono le stesse possibilità di confronto con gli stessi dati, come potete vedere noi nella metà campo offensiva costruiamo decisamente meno rispetto alla nostra metà campo. Noi costruiamo molto più nella nostra metà campo, quindi abbiamo molta più voglia di utilizzare un possesso pala di gestione esteri nella nostra metà campo dove non si creano ovviamente pericoli. In attacco produciamo decisamente poco, abbiamo anche una brutta percentuale di precisione nei tiri, quindi dobbiamo sicuramente migliorare anche queste cose qui. Ma poi la grande differenza arriva qui, quando andiamo a confrontare le statistiche. Prima parlavamo di Verratti che aveva quasi 104, adesso provo a mostrarvele così, così è ancora più incredibile. 104 Verratti, il nostro costruttore più alto nei passaggi è Bremer con 64. Le occasioni create da noi è Quadradolo, l'uomo che crea più occasioni che è anche uno degli uomini che in questo momento stiamo criticando di più perché non è assolutamente ai livelli di come era una volta. Tiri in porta, quello che tira di più da noi è Moise Ken, che credo che abbia fatto soltanto un gol, uno solo. Quindi, insomma, anche l'uomo che dribbla di più, Moise Ken. Siamo sull'ordine dell'uno contro il PSG che aveva Messi, che è quasi a 4. Quindi noi a dribbling si è messi malissimo, a tiri in porta si è messi malissimo, a gol effettivi si è messi abbastanza male. Passaggi non ne parliamo perché, ovviamente, l'uomo che passa di più da noi è un difensore e c'è soltanto un centrocampista all'interno di questa lista, quando da loro ce n'è soltanto uno di difensori. Quindi sono proprio approcci differenti al calcio che per me non andrebbe... Cioè, intendiamoci, se queste statistiche fossero precisamente così, ma la Juventus fosse comunque in grado di arrivare al risultato per merito, per efficacia, comunque a me andrebbe bene. Il problema è che queste statistiche urlano problemi e il campo urla problemi. Quindi ci sono due parti che urlano problemi, il che non è per niente qualcosa di positivo. Quindi le statistiche fanno intendere che sarà una partita a senso unico, come è stata fino adesso, meno male, nella lotta ai gironi e come dimostrano anche le varie posizioni in classifica. Cerchiamo di ragionare invece sulla probabile formazione, ora cambio scheda ed eccoci qua. Questa dovrebbe essere la probabile formazione della Juventus. Come dicevamo ieri, non dovrebbero esserci dei grossi recuperi per la Juve, soltanto Locatelli recupera, che era assente per motivi personali e non ha recuperato invece Danilo. Cioè, non ha recuperato, è squalificato Danilo, che era presente invece a Lecce e quindi il numero dei convocati, bene o male, dovrebbe essere lo stesso, anzi inferiore, perché da noi esce anche Healing, che si è fatto male per forza di cose, si è fatto male, esce anche Mechanic, si è fatto male pure lui. Quindi, numero di disponibili scarseggia, abbastanza, formazione direi quasi obbligata, con, mi viene in mente, Perimpinsoglio, Rugani, in panchina. Centrocampisti non me ne vengono in mente tanti altri, sinceramente, credo che non ce ne siano, così come non penso che ci siano esterni, e come immagino che ci siano Sule e Ken, quindi per il momento mi vengono in mente due portieri, un difensore, due attaccanti, sono cinque in panchina, ci sarà Compagnon che fanno sei, sei e undici fa diciassette, magari verrà aggregato qualcun altro dell'under o della primavera, dato che ieri comunque Allegri ha detto, ho guardato tutti i giocatori, quindi magari era un, ho guardato i giocatori per cercare di capire quali si potranno convocare. Non siamo nel nostro momento migliore, né dal punto di vista della forma fisica, quindi giocatori disponibili, né dal punto di vista invece delle prestazioni, così diventa tremendamente difficile, e se prima dicevamo, speriamo nell'inutile, banalissima, proprio senza senso vittoria, soltanto per quel gusto, poi guardi la formazione, ragioni sui cambi, e dici, beh, se riusciamo a portare a casa questa partita, è un miracolo sportivo, perché non lo so, non lo so. La cosa bella, tra virgolette, è la possibilità di schierare gatti, fagioli e miretti in una partita così complicata, che sicuramente aiuta tanto nella loro crescita, perché cazzo per loro giocare Juventus PSG, una partita di Champions, in uno stadio completamente pieno, sold out, in cui comunque anche il Paris, secondo me, vorrà cercare di vincere per un discorso legato al primato nel girone, soprattutto dopo che hanno vinto l'ultima partita di Champions, segnandone un fracasso, vorranno continuare su questa falsa riga, perché, lo sappiamo, l'obiettivo del PSG alla fine è quello appunto di vincere questa Coppa, questa competizione, emessi non so quanti altri anni di Champions a questi livelli, potrà avere a disposizione Mbappé, non so quanti altri anni di Champions col PSG, avrà a disposizione, quindi non lo so, ho un po' paura, sinceramente, per stasera ho un po' paura, una partita tra virgolette inutile, però da partita inutile a partita che si trasforma nel disastro, il passo è breve, quindi cerchiamo di onorare la maglia, perlomeno, l'unica cosa che posso chiedere stasera è questa, oltre alla facoltà di vedere appunto questi ragazzi in campo dal primo minuto e magari anche nelle rotazioni successive, non so che altro dire, queste sono un po' le uniche cose che mi vengono in mente guardando i dati, guardando la situazione, guardando la probabile formazione, guardando il contesto, stasera è una partita di sofferenza e la vivremo insieme sul canale Twitch. Un abbraccio ragazzi, mi piace il video, come al solito.